Abbiamo dovuto fare un passo indietro, noi non avevamo questa come scelta prioritaria, la legge elettorale tedesca non era il nostro sogno, noi volevamo un altro modello, un modello molto più semplice dove la sera delle elezioni sai chi ha vinto, il ballottaggio una sola camera, ricordate, era il tema del referendum, quel referendum l'abbiamo perso, è capitato che Berlusconi, Salvini, Grillo, qui manca una foto che è quella di Fratoianni, il leader della sinistra radicale, di sinistra italiana, hanno detto se chiudete sul sistema tedesco, quindi un proporzionale dove chi non prende il 5% sta fuori, noi ci stiamo. Vespa, non era la nostra prima scelta, però c'è anche un fatto di responsabilità, quando hai la possibilità di portare una legge elettorale che pacifica il sistema istituzionale, basta polemiche, e finalmente anziché continuare a parlare di come va la soglia della coalizione o l'emendamento sullo sbarramento, si inizia a parlare dei problemi reali, lavoro, 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 nel momento in cui c'è questa occasione, se io non avessi colto questa occasione non sarei stato serio verso l'Italia, noi se non l'avessimo colta non saremmo stati coerenti, perché noi l'altra volta abbiamo detto a quei signori state sbagliando ad anteporre la vostra posizione politica a una cosa che serve all'Italia, era il referendum, e loro hanno avuto ragione perché hanno vinto il referendum. Oggi se noi facessimo lo stesso errore e dicessimo no, allora noi per ripiccavi diciamo di no, non saremmo credibili. Ci vuole un passo di buonsenso, mi permetto di dire che se quelli non prendono il 5% e stanno fuori, non è un dramma, è così dappertutto in tantissimi paesi, cioè se dopo anni che sei stato al governo, hai fatto il ministro di tutto, non riesci a prendere il 5% del voto degli italiani, è evidente che non possiamo fermare tutto per dare un potere di ricatto ai vertigini.